I primi passi di Francesco Roberti da governatore del Molise fanno scattare le ire dell'opposizione di centro-sinistra. Da Gravina a Fanelli in queste ore piovono critiche per le prime strategie messe in campo nel merito della situazione finanziaria della Regione e per la Giunta. La prima eletta del centro-sinistra, Michela Fanelli, punta il dito contro l'ennesimo esecutivo che non prevede la presenza femminile. Giunta monca, costosa e senza quote rosa, tuona la consigliera PD, sottolineando i 12.000 euro in più al mese per l'assessore esterno, che vanno a gravare su un bilancio pieno di debiti e non ancora approvato. Ed è proprio sulle casse in rosso del lente che accende un focus l'ex candidato presidente Roberto Gravina. Nei giorni scorsi, Roberti ha dialogato con i tecnici del Ministero delle Finanze per comprendere come risanare la situazione debitoria, ma per l'esponente del Movimento 5 Stelle significa solo demandare a Roma ogni decisione. Manca un approccio e un programma strutturato e soprattutto è tutto poco legato realmente alle esigenze del territorio, le parole di Gravina. Ciò che lascia basiti i molisani sin da questi primi giorni iniziali della legislatura è la narrazione della discontinuità che si sta provando a propinare su ogni problema che il centrodestra sembra improvvisamente ritrovarsi tra le mani, come se si trattasse di problemi calati dall'alto o arrivati sulle loro scrivanie chissà a causa di chi.